Da segnalare un terremoto a Rieti alle 18.39 di oggi, 21 giugno 2022. Il sisma è stato di magnitudo 3.1 e vicino alla città areale. La scossa è stata avvertita in maniera distinta da parte degli abitanti proprio della zona. Anche però nella vicina matrice si è sentita, si è percepita. L'NGV ci informa che le scosse sono state, sarebbero state, 23. Una alle 6.20 di 2.4, una alle 6.40 circa di 3.1 e un'altra alle 18.42 di magnitudo 2.8 registrata. La più forte di tutto è stata quella delle 18.39, 18.40 circa. 18 di rompiti di profondità tutte e tre. Insomma è stato un terremoto che qualcuno addirittura ha percepito, ripeto, piuttosto bene. Infatti qualcuno è sceso addirittura in strada. Non sono mancate le telefonate ai vigili del fuoco e ovviamente i residenti erano in allarme. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi. Se abitate in avatrice o in, scusatemi, in Rieti o in provincia di Rieti, vi visitemi se no, se non avete percepito oppure se avete percepito il sisma in questione. Da il vostro narratore italiano di YouTube Italia e tutto, iscrivetevi mi raccomando, commentate, datemi le vostre opinioni. Un caro salutone a voi. A prossimo video. Buonasera da voi tutti. Ciao. Ciao.